Una pesante e dolorosa sconfitta per il Taranto che perde 2-0 a Gravina, sconfitta che giunge dopo oltre tre mesi di risultati utili consecutivi. La formazione di casa in maglia bianca con un gol per tempo al 31esimo Nigro e alla mezz'ora Santoro portano a casa tre punti. Il Taranto è costretto adesso a vedere le prime posizioni della classifica da distanza ragguardevole. Andiamo alla cronaca, c'è il 4-2-3-1 in campo al quinto minuto, Antonino è superlativo su Scaringella che tutto solo si presenta in area di rigore rosso-blu ma all'estremo del Taranto è bravo a chiudere lo specchio. 30 secondi più tardi dall'altra parte c'è una conclusione dal limite di buona volontà per il Taranto con il pallone che termina a lato. Alla settima ancora Gravina pericoloso con un coppo di testa di Maddì, la parata a terra è di Antonino. Il Taranto reagisce all'undicesimo punizione di D'Agostino, la parata di Loliva strappa gli applausi del pubblico di casa. A proposito di pubblico, trasferta vietata ai sostenitori del Taranto. Al 28esimo c'è un gran tiro di Favetta che si destregge bene al limite dell'area di rigore, stoppa, si gira, conclude al volo ma neutralizza il portiere di casa. Un minuto dopo, al 29esimo c'è uno slalom di disenso, sventola da fuori aria, ancora Loliva sugli scudi. Al 31esimo dal secondo corner dei padroni di casa nasce il gol del vantaggio del Gravina di testa, Nigro batte Antonino per l'1-0. Al 34esimo esposito dal limite dell'area di rigore ma Loliva riesce a deviare ancora in calcio d'angolo. Panarelli prova a correre ai ripari, al 41esimo toglie un difensore, Buova entra, un attaccante croce. Nella ripresa si gioca praticamente per lunghi tratti ad una porta, al secondo Favetta, botta sicura ma ancora Loliva è superlativo ad opporsi e a negare il gol all'attaccante rosso-blu. Al quarto c'è una parata di Antonino sul primo palo, il diagonale di Chiara Dia. Al sesto minuto colpo di testa di croce, pallone che termina di poco fuori. Altra sostituzione, entra Salatino, un trequartista al posto di Buonavolontà che è un centrocampista. Il Taranto è sfortunato all'undicesimo, punizione calciata di D'Agostino, testa di croce, pallone che timbra la traversa, poi sulla ribattuta Favetta non riesce a trovare la soluzione vincente. Al quattordicesimo un avvicendamento sull'auto di destra della trequarti, fuori di senso dentro Oggiano. Al quindicesimo D'Agostino ci prova da fuori ma ancora una volta l'estremo difensore di casa c'è. Al ventiduesimo l'Oliva si ripete su Oggiano. Panarelli prova il tutto per tutto, toglie un centrocampista, Manzo dentro un'altra punta, Roberti ma è il Gravina a raddoppiare alla mezz'ora. Santoro è entrato in campo da una ventina di secondi, tocca il primo pallone e complice una distrazione difensiva. Si presenta davanti Antonino, lo salta e batte il portiere del Taranto per il 2-0 che poi sarà il risultato definitivo. Al trentacinquesimo ancora una parata di l'Oliva su Esposito e poi nel finale il Taranto resta addirittura in 9 per le espulsioni. Al quarantunesimo di Ferrara per doppio giallo e al quarantacinquesimo di Salatino. Per lui rosso diretto per un intervento su un avversario.